Buonasera, siamo sul set del nuovo spot di Siesmallam, che è un nuovo prodotto innovativo che serve a avvertire preventivamente l'arrivo di un terremoto. Un dispositivo nuovissimo di una azienda italiana, costruita in Italia, che andrà in onda prossimamente sulle Buscai. Lo spot è alla regia di Marco, Marco Della Fonte, un ottimo amico con cui lavoro da tanti anni. Racconta la storia di una famiglia, una famiglia normale, che probabilmente potrebbe avere la voglia e l'intenzione di acquistare un prodotto del genere, perché in Italia è il primo che esiste. Viene girato tutto in interni, penso sia un grande lavoro e lo vedremo prossimamente. Grazie. Viene girato, grazie. Viene girato. Grazie.